De Jesus Ribeiro da Silva, chiamata Aninha, dalla sua piccola corporatura, nasce il 30 agosto del 1821, in mezzo alle montagne del Brasile Meridionale. Sua madre Maria Antonietta è una donna di San Paolo, molto bella, di grande classe e cultura, dagli agi della città è finita chissà come alle difficoltà delle pampas, gli sterminati altipiani dell'interno.